Ci troviamo qui a Marotta nel comune di Mondolfo dove da ieri sono iniziati i lavori di riqualificazione messa in sicurezza del molo. Nuove ringhiere, sistemazione della pavimentazione e riaffioramento della scogliera a protezione del molo. Sono partiti i lavori di riqualificazione del molo di Marotta danneggiato a seguito delle mareggiate degli scorsi anni. Gli interventi, fa sapere il primo cittadino di Mondolfo, Nicola Barbieri, sono finanziati con circa 50.000 euro dalla regione. Andiamo a completare la messa in sicurezza e riqualificazione del molo. In questi anni come amministrazione comunale abbiamo fatto diversi interventi, dalla nuova illuminazione pubblica a LED ma anche la nuova pavimentazione qui della piazzetta del molo, i mosaici che sono stati realizzati grazie all'associazione Chiaroscuro. Quindi tornerà a splendere uno dei luoghi simbolo della nostra città. A fine 2020, ha poi continuato il sindaco Barbieri, abbiamo affidato l'incarico per la progettazione di interventi di manutenzione delle scogliere su tutto il litorale marottese, progetto avviato anche in collaborazione con l'associazione Bagnini. L'obiettivo è quello di arrivare ad avere un progetto definitivo per la primavera di quest'anno perché senza progetti non potremo partecipare ai bandi e quindi ottenere i finanziamenti. Sulla difesa della costa ci puntiamo molto. Nel 2019 abbiamo fatto un intervento importante di potenziamento delle scogliere a Marotta Sud e abbiamo visto che ha avuto ottimi risultati e vogliamo continuare anche in altre zone coinvolgendo la regione, soprattutto sulle zone più critiche della nostra città in particolar modo nella zona centrale di Marotta.